Due colpi fatali alla orta e al cuore, più altri nella zona del collo, non decisivi però come i primi due. L'indagine sulla morte di Lorena Vezzosi, classe 1971 di Casal Maggiore, probabilmente uccisa dall'ex marito Stefano del Re, classe 1969, sempre di Casal Maggiore, si sta spostando sempre più a Sant'Arcanzio di Romagna, dove la procura di Rimini collabora sin dall'inizio di questa brutta vicenda, iniziata venerdì mattina con il ritrovamento dell'auto nel fiume con a bordo i due corpi. Perché tutto si sta spostando verso Rimini? Perché la stessa procura riminese ipotizza che Lorena sia stata uccisa e colpita con violenza dall'ex marito nel suo appartamento di Via Terranova a Sant'Arcanzio di Romagna. L'arma del delitto, considerando la propondità del taglio, è forse un bistori che si sposerebbe anche col lavoro che faceva Stefano, infermiere di diverse RSA del territorio e che dunque aveva accesso a questi strumenti. Sempre secondo l'ipotesi della procura di Rimini, il corpo di Lorena è stato avvolto in un lenzuolo, perdendo ovviamente sangue e questo spiega le chiazze rosse rinvenute nell'appartamento dopo che Stefano ha provato a pulire sommariamente il locale. A questo punto è plausibile che, per non dare nell'occhio, del re abbia spostato durante il viaggio dalla Romagna a Casal Maggiore, circa 200 km, il corpo dell'ex moglie nel baule. Solo successivamente, forse poco prima di lanciarsi nel fiume Po a grande velocità, lo ha sistemato su sedile passeggero vicino al quale sarebbero state trovate macchie di sangue raffermo, legato con la cintura di sicurezza prima della corsa verso l'acqua all'altezza dell'attracco per chiudere il suo tragico piano dell'omicidio suicidio. Questa ricostruzione spiegherebbe diversi passaggi, anzitutto come abbia fatto del re a percorrere tutta quella strada senza che nessuno notasse nulla, nemmeno quando la Opel Corsa è stata presumibilmente parcheggiata a bordo strada per andare a trovare i genitori. In secondo luogo, perché Lorena indossasse indumenti intimi, ma anche una maglietta nera, contrariamente a quanto era trapelato inizialmente, dato che probabilmente l'uomo si è liberato durante il viaggio dei vestiti intresi di sangue. Non si trova l'arma del delitto, che però potrebbe davvero essere ovunque, ma il dettaglio sembra acquisire ora un po' meno importanza. L'ultima ipotesi, macabra, è quella della scelta di posizionare Lorena sul sedile passeggero prima di lanciarsi nel fiume. Agli inquirenti è parso un gesto simbolico, quasi a voler rimarcare la decisione di essere fianco a fianco anche nella morte dopo una vita assieme, che negli ultimi mesi aveva vissuto diverse burrasche, tanto che il momento passionale è ormai considerato scontato. Al momento del ritrovamento dei corpi, infatti Stefano poggiava la testa sulla spalla di Lorena, in un piano che sembra studiato nei minimi particolari, un dettaglio che non sembra né improvvisato né casuale.